Allora, lanciamo un concorso, la domanda è cosa stanno aspettando gli indici? Perché sono fermi, questo è il DAX a due ore, è a 10.8 praticamente dall'8 maggio e andiamo di lato, non andiamo da nessuna parte, tutti gli indicatori ovviamente si stanno portando in posizione neutrale e vediamo un po' nei commenti, raccolgo le vostre idee, vediamo qual è il consenso secondo voi cosa stanno aspettando gli indici per prendere una direzione? In questo momento non abbiamo informazioni nuove rispetto agli altri giorni Volatility Stop Line piatta, Momentum 0, vediamo un attimo l'Eurostox, stessa roba questo sotto la volatilità di stop line, quando la volatilità, quella immediata, la volatilità operativa quella misurata giornalmente, molto bassa, ha poco significato, non c'è dinamica quindi sì, sono pochi tic sopra, pochi tic sotto, non cambia molto quello che si sta scendendo ma non è scesa come avrebbe dovuto, questa è la volatilità implicita quella misurata sulle opzioni, questo è il cosiddetto indice della paura perché sulla base di questo indicatore, cioè la volatilità implicita misurata sulle opzioni si vede quanto il mercato teme volatilità nel prossimo futuro ora qui vediamo un trend discendente, però vi ho sempre detto che per poter andare tranquillamente verso una prosecuzione del trend al rialzo di questa correzione che ancora non può dirsi conclusa, anche se si è fermata questa volatilità doveva scendere ma bene sotto i 30 ora siamo 29, ora addirittura a fine giornata ha cominciato a rimbalzare verso l'alto ma per farvi capire dove siamo, mettiamola un attimo sul grafico settimanale ecco, quindi dove siamo adesso? Noi siamo ancora sopra i massimi degli ultimi tre anni nonostante che il picco sia stato toccato a fine marzo, quindi oltre un mese e mezzo fa quindi la volatilità è ancora molto alta, siamo a livelli superiori a quelli del gennaio 2018 quando vi ricorderete ci fu il crollo improvviso tra gennaio e febbraio e siamo anche ai livelli superiori di fine 2018 questi sono i livelli di fine dicembre quando i mercati toccarono i minimi del periodo dell'ultimo anno e mezzo ecco, quindi la volatilità è ancora molto alta però il mercato in questo momento è fermo quindi secondo me siamo vicini a un movimento significativo il mercato però sta aspettando qualcosa ci sono varie idee vorrei sentire anche le vostre così poi dopo facciamo un po' un riassunto della situazione lasciatemi le giù nei commenti oggi un po' meglio il nostro Fuzzimib ma sai, quando il Fuzzimib ti fa più uno in una situazione del genere neanche si vede però lo ha fatto lo ha fatto grazie a qualche titolo che oggi ha performato bene ma dobbiamo vedere un po' se ci sarà la persecuzione nei prossimi giorni oggi Telecom Italia sulla scia dei risultati di Vodafone ha messo a segno più 5,7 ma vedete siamo qua stava a questi prezzi il 19 marzo cioè nel pieno ancora della praticamente il rimbalzo è durato dal 16 al 19 perché siamo ancora là tre giorni e poi dopodiché ma sono diversi i nostri titoli in questa situazione noi anche complice il fatto poi del divieto delle vendite allo scoperto perché la mancanza degli short ha tolto un po' di carburante a quello che è stato poi il rimbalzo quindi sì oggi più 5,7 Telecom vediamo domani perché siamo comunque sotto ma ampiamente sotto le resistenze ne abbiamo diverse davanti fine ecco bank più 5% anche qui non mi piace cioè non mi piace il discorso che non rispetti le trendline ci fa ci rende un po' più difficile rispetto a questo modello che vi mostro rende un po' difficile gestire un titolo del genere perché qui aveva dato un segnale bearish che poi si è rimangiato quindi da un punto di vista ecco forse qua sì l'ha violata però non ha mai cambiato colore tutto sommato possiamo dire che qua i supporti a 9,6 avevano ottenuto ma è comunque il superamento di 10,3 è sicuramente un segnale importante in teoria a strada libera fino a 11,2 chi rispetta meglio questo modello che propongo è un titolo come Prismian vedete come rispetta bene questo indicatore statistico che è la volatilità di stop line ha una volatilità contenuta Prismian fa i rimbalzi fa i ritracciamenti tocca cambia colore riparte da continuità al movimento oggi è superato la resistenza 18,6 e ha strada libera fino a 20 adesso Prismian con stop da mettere qui a 17,5 proprio perché certo entrare adesso lo stop è ampio quindi attenzione a gestire queste posizioni quello è un altro discorso la gestione della posizione noi qui guardiamo l'assetto tecnico la situazione tecnica di Prismian è buona vedete oggi breakout con volumi i buyer sono in controllo da un bel po' è un titolo che abbiamo visto anche in altre analisi continuano i segnali positivi dalle utilities ne abbiamo già parlato nell'analisi di fine settimana nel corso del weekend dove già avevamo visto Acea oggi anche A2A un break interessante con aumento di volumi secondo me da seguire superamento di queste resistenze a 1,25 quindi qual movimento potrebbe essere all'inizio no? però vediamo vogliamo vedere il superamento di 1,25 acea continua più 3,3% così come Snam Rete Gas un altro 2% questi sono titoli che abbiamo visto e che sembra che vogliano impostare un movimento e quindi questo ritorno sulle utilities anche nell'ambito della rotazione settoriale mi fa un po' pensare che il mercato si sta preparando forse una fase dove sta appunto andando verso i titoli dove c'è dividendo dove c'è meno volatilità perché dall'altra parte ecco ora ribaltiamo vediamo di qua la performance non è stata molto buona su diversi industriali anima risparmio gestito poi il resto sono gli industriali Brembo oggi mi ci fa il meno 2 Piaggio meno 2,4 anche se Piaggio è andata su abbastanza quindi è un meno 2,4 in fondo sta facendo questo trading range tra 1,9 e 2,2 però ecco questo fail sul massimo a 2,2 non è molto rassicurante quindi ha aumentato un po' la volatilità sì Buzzi unici a meno 3,5 vediamo la sua situazione fondamentalmente in un trading range Interpump che aveva dato qualche segnale positivo beh è ancora sopra i supporti è abbastanza regolare la pendenza è bassa siamo sui supporti attenzione questi supporti a 26 però se si dovesse girare sta percorrendo verso l'alto il suo ritracciamento anche se non con una pendenza molto elevata IMA meno 6,9 anche IMA molto volatile aveva recuperato molto bene addirittura portandosi sopra i livelli di febbraio adesso è in in correzione marcata con aumento di volumi quindi diciamo l'uptrend qua può considerarsi per il momento interrotto e queste sono un po' poi gli altri titoli sono vedete FIAT meno 0,5 si ha fatto il suo percorso a rialzo dopodichè si è portata adesso sta pericolosamente poggiata su questi supporti a 7,5 se dovesse lasciarli e riinizierebbe una una fase una fase di di debolezza con test dell'area 7 quindi questo più o meno le Ibig sono tutti qua generali meno 0,4 non ci sono grosse novità quindi questo è quanto volevo dirvi oggi giornata interlocutoria ci aggiorniamo a domani un video un po' più corto ma appunto con una situazione del genere DAX incollato a 10,8 vediamo un attimo se arriveranno novità giusto chiudiamo guardando l'America c'è ancora mezz'ora la chiusura meno 0,7 meno 0,8 il Dow Jones però anche qui siamo sta per il momento facendo finta di scendere nel senso che finché non romperai i supporti 23,6 sono oscillazioni che in questo momento non vogliono dire più di tanto va bene tutto per oggi ci aggiorniamo a domani qui